un'antitata, un'altra d'hanno di intervenire e non vengono così, e non vengono così, c'è mai e l'oltre è disponibile e l'oltre è di voler ma insomma, la vogliamo finire no con questa musica che sono tre ore, zoom 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 ma basta hey, tu sti là un padre Io ho fatto il militare vicino a Bologna Scuso Ascoltavo un po' di musica di sentimento A voi non mi piace il sentimento Voi siete una bella donna Vi dovrebbe piacere Sì che mi piace il sentimento Cosa c'entra Però ci vuole il suo posto giusto per manifestarlo Adesso scusi che devo rientrare in casa Scuso